Nelle settimane scorse abbiamo scoperto che c'è stato uno spreco di risorse da parte della regione Abruzzo per quanto riguarda delle cause alle quali la stessa regione Abruzzo non si è mai opposta. Parliamo di alcuni decreti ingiuntivi fatti da una ditta addirittura per l'Eurobasket 2007, quindi parliamo di una venicenza di 11 anni fa, molto prima che noi entrassimo ovviamente qui in regione ma anche negli altri enti, e dimostra come in regione purtroppo vengono fatti sprechi ogni giorno, quotidianamente. Praticamente la regione ha pagato un anno e mezzo fa ben oltre un milione e mezzo di euro a questa ditta perché non si è opposta a ben tre decreti ingiuntivi emessi presso il Tribunale di Como. La particolare sta nel fatto che la provincia di Chieti, che aveva subito le medesime decreti ingiuntivi, si è opposta, non ha subito nessuna escursione, ma soprattutto ha vinto le cause, fino ad ora ha vinto due cause su quattro contro questa Bertellè che è una ditta di Como, invece la regione, non opponendosi, semplicemente ha lasciato correre e ha fatto perdere un milione e mezzo di euro, anzi un milione e 600 mila euro e passa, delle tasse dei cittadini abruzzesi. Noi ora con questo esposto alla Corte dei Conti vorremmo capire chi ha sbagliato dentro la regione, se è stato un problema di riorganizzazione regionale e quindi dovremmo capire anche se ci sono stati altri interessi dietro e non una mera omissione di qualche dirigente. Per noi molto dipende da una riorganizzazione fatta in modo scomposto degli uffici regionali, basti pensare che l'ufficio che aveva la responsabilità di verificare questi debiti, la non esistenza di questi debiti, è un ufficio che ha cambiato nome e organizzazione tre volte e il cui responsabile è in aspettativa dal 2015. Quindi abbiamo una regione che si è riorganizzata, secondo i voleri del Presidente, probabilmente per seguire delle logiche che non sono quelle della massima efficienza e che a oggi non riesce a rispondere alle problematiche che si verificano.